In che lingua dovrebbero amarsi due come noi? Non serve parlare, fa come vuoi. Era uno degli eventi più attesi dell'estate sangiovannese e si è rivelato un successo. Una piazza masaccio gremita ha accolto Francesca Michelin con il suo tour estivo L'estate dei Cani Sciolti. Cantautrice e polistrumentista, il 24 febbraio 2023 ha pubblicato il nuovo progetto discografico Cani Sciolti, accompagnato dal singolo Quello che ancora non c'è ed anticipato dai brani Bonsoir e Occhi Grandi Grandi. Dai primi di luglio Francesca Michelin sta attraversando il paese da nord a sud portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d'Italia, i brani di Cani Sciolti e i grandi successi che hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena musicale italiana.